E' mercoledì 6 gennaio, buongiorno e buona festa dell'Epifania, prima edizione del nostro telegiornale, questa mattina in regia Massimiliano Chiocchio. Apriamo l'informazione con le ultime novità sulla scuola. Il presidente della regione Toma ha firmato ieri sera un'ordinanza che proroga la chiusura degli istituti fino al 17 gennaio. Il governatore ha spiegato i dettagli del provvedimento intervistato ieri sera nel corso del nostro telegiornale. Sentiamo cosa ha detto a Enzo Luongo. Ho prorogato la mia ordinanza che riguardava le scuole medie e inferiori, le scuole elementari. Quindi io prorogo la sospensione dell'attività didattica nelle scuole medie e inferiori, per capirci terza media, seconda media, prima media, e nelle scuole elementari, dando la facoltà ai sindaci, se la condizione epidemiologica lo consente, di aprire le scuole elementari. Le materne rimangono aperte, a meno che i sindaci in ordinanza restrittiva non vogliano fare il contrario. Le scuole medie e superiori non le ho ancora regolamentate, perché io so, avendo partecipato a diverse riunioni col governo, che la sospensione dell'attività didattica è già prevista in un decreto in corso di pubblicazione del governo. Quindi anche le scuole superiori avranno l'attività in didattica a distanza, quindi l'attività didattica in presenza sarà sospesa. Dovrebbe il governo decidere di sospenderla fino all'11 di questo mese. Io però sono intenzionato a protrarre la sospensione fino al 18. Il risultato finale sarà che tutte le scuole medie, superiori e inferiori saranno sospese come attività in presenza fino al 18. Senta Presidente, approfitto per chiedere anche novità su altri temi. Innanzitutto i trasporti, anche su questo tema c'è molta attesa. Come vi regolerete nelle prossime ore? Noi abbiamo il piano trasporti sui tavoli coordinati dai prefetti, che in pratica eravamo pronti anche a riaprire il 7. Ma considerato le emergenze epidemiologiche, considerato che non abbiamo i dati epidemiologici della settimana che si chiude, della settimana scorsa, perché ci arriveranno alla fine di questa settimana, abbiamo ritenuto in questo momento, ho parlato appena poc'anzi con l'assessore Pallante, di sospendere il piano e di riprenderlo dopo il 18. Quindi le corse aggiuntive per ora rimarranno sospese. Abbiamo avuto anche l'adesione, una importante adesione da parte dei cosiddetti NCC, noleggio con conducente, quindi i piani sono idonei eventualmente a partire anche al 100%, ma ne riparleremo dopo il 17. Ultima domanda sui vaccini. C'è stata qualche polemica, ci sono state polemiche negli ultimi giorni perché il Molise è stato in fondo alla classifica dei vaccini effettuati. Ieri e oggi ci sono dati nuovi, ci può dare degli aggiornamenti? Stiamo recuperando terreno? Guardi, a questo momento in cui le parlo, i dati che mi sono stati trasmessi riguardano tra ieri e oggi 755 vaccini somministrati. Insomma abbiamo recuperato, stiamo recuperando. Domani cominceremo con le prime case di riposo, quindi stiamo andando avanti con molta solerzia. C'è stato qualche ritardo dovuto principalmente non solo alle famose siringhe che ci hanno pervenute, che i nostri sanitari le avevano giudicate non idonee, ma poi c'è stato un chiarimento con il commissario Arcuri. È dovuto anche al fatto che dovevamo organizzare le squadre con personale nostro interno, non avendo avuto ancora notizia del personale che il commissario straordinario dovrà reclutare e quindi abbiamo dovuto formare queste squadre utilizzando i mezzi nostri. Lo abbiamo fatto. Chiuse tutte le scuole a Campobasso fino al prossimo 17 gennaio. Lo ha annunciato con un suo messaggio il sindaco della città, Roberto Gravina. Resteranno chiuse anche le scuole materne. Sentiamo cosa ha detto. A differenza del 7 dicembre, questa volta a Campobasso le scuole, quindi sia le elementari che le medie, resteranno chiuse in applicazione dell'ordinanza del Presidente della Regione emanata questa sera. Questa volta appunto non riteniamo di andare in deroga semplicemente perché i dati in possesso del Comune sono praticamente scarsi, non si conoscono il numero di positivi attuali né si conosce l'andamento epidemiologico generale. Quindi per ragioni di prudenza, questa volta fino al 17 gennaio le scuole resteranno chiuse e domani verrà adottata anche un'ordinanza per la chiusura sempre fino al 17 gennaio dell'infanzia. Quindi resteranno chiusi anche gli asili proprio per verificare e capire nei prossimi giorni come andrà l'andamento e in base appunto ai numeri che speriamo di ottenere adotteremo le decisioni del caso. E adesso veniamo ai dati del bollettino ASREM di ieri sera. Tregua sul fronte dei decessi non si registrano vittime. Ci sono invece 27 positivi su 409 tamponi guariti, sono 138 per quanto riguarda i nuovi contagiati. Ci sono 6 casi a Campobasso, 4 a Santelia, a Pianisi e 3 casi a Campodipietra, Matrice e Trivento. Gli altri contagiati a Boiano, Gambatesa, Isernia, Montecilfone, San Polo Matese, Termoli, Ururi e Venafro in ospedale, tre ricoveri e due dimessi. I ricoverati sono complessivamente 66. Numerose e articolate le attività della Polizia Postale e delle comunicazioni del Molise nel corso dell'anno 2020. Per quanto riguarda la pedopornografia online, 31 siti web sono stati inseriti in blacklist perché a contenuto illecito. Denunciate 9 persone per adescamento di minorenne e detenzione di materiale a contenuto pedopornografico. Da segnalare il supporto all'operazione nazionale Luna Park, un molisano poi è stato arrestato per stalking e diffusione illecita di video sessualmente esplicito ai danni della ex compagna. Se le denunce per diffamazione online particolarmente incisiva è stata l'attività di monitoraggio della rete. A maggio insieme alla squadra mobile di Sernia sono stati identificati i sei trasgressori che, violando le prescrizioni vigenti, hanno organizzato una festa in pieno lockdown. Per quanto riguarda le frodi informatiche online, 55 le persone denunciate. E si è conclusa con le scuse dell'azienda la polemica scoppiata nelle scorse ore attorno al pastificio. La molisana al centro della bufera, una varietà di pasta, le abissine rigate, la cui confezione richiama al periodo coloniale italiano. Ci scusiamo e cambieremo il nome del formato di pasta, hanno fatto sapere dall'azienda. Ascoltiamo il servizio. La polemica scoppiata nelle scorse ore attorno al pastificio la molisana si è risolta con le scuse dell'azienda. Al centro della bufera, una varietà di pasta, in buona sostanza delle classiche conchiglie, a cui è stato dato il nome di abissine rigate, con un richiamo nelle note che accompagnano il prodotto al periodo coloniale italiano. In particolare è stata criticata l'espressione che rimanda al gusto specifico di quel tipo di pasta, definito dal sicuro sapore littorio. Un vespaio di polemiche scoppiato sulla rete dopo che un cronista di radio popolare, Nicolò Vecchia, aveva segnalato la cosa con un post su Facebook. La notizia in pochi minuti è diventata virale, ma il benemerito pastificio molisano ha fatto subito chiarezza riconoscendo l'errore nella comunicazione e porgendo le proprie scuse. Ci scusiamo per il riferimento riguardante il formato di pasta a bissine rigate, hanno scritto in una nota che ha rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della storia. Cancellare l'errore non è possibile, prosegue la nota della Molisana, ci impegniamo a revisionare il nome del formato in questione, attingendo alla sua forma naturale, hanno concluso. Il nome in procinto di essere cancellato fa riferimento ai tipi di pasta in commercio negli anni 30, Tripoline, Bengasine, Assabesi e quindi Abissine. Sulla vicenda in qualità di membro dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione del Molise, è intervenuto l'ex assessore regionale Michele Petraroia. Per chi conosce la storia della famiglia titolare del pastificio La Molisana, ha commentato a Lanza, non possono sorgere incomprensioni su un tema così delicato. I nazifascisti, ritirandosi da Campobasso, distrussero la loro azienda e nel dopoguerra, come spesso ricordava l'onorevole Alfredo Maraffini del PC, il capostipite della famiglia Ferro partecipava alle sottoscrizioni della festa dell'unità. In tutti i casi opportuno che la Molisana chiarisca, se necessario, anche in modo più fermo, la propria totale estranità ad ogni riferimento col fascismo. Così ha concluso Petraroia. Bene, è tutto per l'informazione. Passiamo adesso alla rassegna stampa. In apertura della nostra rassegna stampa andiamo subito sulla home page del giornale del Molise. Diverse le notizie questa mattina. In evidenza il Covid concede una tregua, nessuna vittima scende la curva dei contagi 27, oltre al tasso di positività, fermo al 6,6%. Poi la vicenda che riguarda la Molisana, Bissine rigate. La Molisana chiude la polemica, ci scusiamo per il riferimento a una pagina drammatica della storia. Covid in Molise slitta il 17 gennaio, la riapertura delle scuole restano aperti solo gli asili. Toma firma l'ordinanza. Poi una brutta notizia che arriva da San Martino in Pensilis, cancellata la carrese del 2021, purtroppo per le conseguenze legate alla pandemia. In corso restiamo sempre però a San Martino in Pensilis, questa volta con una buona notizia. Gioia San Martino per i cento anni di nonna Maria Fasciano. E restiamo sempre sul giornale del Molise, ma andiamo alla sezione editoriali, idee e opinioni, che questa mattina ospita un editoriale a firma di Paolo Frascatore. Una nuova primavera, questo il titolo dell'editoriale firmato da Frascatore, che scrive se una rondine non fa primavera, comunque annuncia l'arrivo della bella stagione, quanto si preannuncia nei prossimi mesi nel panorama politico italiano, ormai stagnante e privo di valori ideali forti. Frascatore tratta del cattolicesimo democratico e degli sviluppi prossimi venturi, l'articolo nella sezione editoriali del giornale del Molise. E adesso andiamo alla home page di Futuro Molise. Toma in Molise, scuole chiuse fino al 17 gennaio, questo è il titolo di apertura. Poi le vicende sindacali, ATM sindacati, si va verso lo sciopero, sbloccate le tredicesime, ma la mobilitazione e l'avvertenza dei lavoratori. Vanno avanti poi il caso della molisana accusata di celebrare il fascismo con la pasta dal sapore di Littorio. Isernia pubblicato il Bando Comincio da Zero per il contrasto della povertà educativa minorile. E passiamo adesso a vedere la prima pagina di primo piano Molise. La curva non scende, Toma chiude le scuole, questo è il titolo di apertura. Il Presidente ha firmato ieri sera l'ordinanza valida fino al 17 gennaio, la deroga ai sindaci, se ci sono le condizioni, possono aprire le elementari. Vietato utilizzare i mezzi pubblici, se non per comprovate esigenze, chi rientra in Molise deve osservare la quarantena. Restiamo sempre a centropagina su primo piano Molise. Vaccini, ieri il secondo carico, arrivati a Campobasso altre 1950 dosi. Poi la polemica sulle siringhe. Toma contraattacca Federico e Gravina mentono. Consegne sbagliate. Ovunque restiamo a centropagina. 16 bimbi al Santo Bono con la Sidnome post-Covid. Malattia misteriosa. Il primario del pronto soccorso ai pediatri. Portateli subito da noi. Notizia da Termoli. Violenza sessuale e tentato omicidio. I dettagli dell'arresto del nigeriano. 38enne da Campobasso. Giarrusso torna in comune. Gravina gli affida urbanistiche e lavori pubblici. San Martino in Pensilis. Il virus manda K.O. la carrese. Sentite le associazioni. Di Matteo la annulla. Vediamo adesso le notizie in taglio alto. Si parla del bollettino dell'ASREM. Si arresta per un giorno la scia dei decessi. 27 casi accertati. 3 ricoveri. E un nuovo paziente in terapia intensiva. 138 guariti. Tasso di positività al 6,6%. Poi il caso. Perde la gara per la gestione del CUP ASREM ma fornisce il software tramite Molise. I dati fa ricorso e blocca l'aggiudicazione. File e disagi agli sportelli. Andiamo adesso a vedere le notizie sportive. Si gioca. Lupi chiamati al Blitz. All'Aragona di Vasto. Torna Capitan. Bontà. Rinvini. Niente gare per Agnone e Vasto Girardi. Vincono Covid e maltempo. Calcio a 5. Il CUS impegnato. Ortona. Chaminade in Calabria. E passiamo adesso a dare uno sguardo alle prime pagine nazionali. Iniziamo come di consueto con il Corriere della Sera. Si parla di scuola in apertura. Scuola rinvio tra le tensioni secondarie in presenza al 50% dall'11%. Ma molti governatori prolungano lo stop, l'attesa dei presidi. Si va poi in Lombardia. Caso Gallera. Svolta in Lombardia. Letizia Moratti candidata a guidare la sanità. In taglio alto sul Corriere invece la politica Zingaretti dice Conte ora prenda l'iniziativa e Surrenzi aggiunge no a crisi al buio e ad atti di rottura. A centropagina invece si parla di Mr. Bean con una fotonotizia. Il personaggio dice Atkinson, il suo autore. Interpretarlo non mi diverte più. L'antipatico più amato Mr. Bean, scrive il Corriere, va in pensione. E andiamo invece adesso alla prima pagina di Repubblica. I volontari del vaccino, questa l'apertura. Decine di medici si offrono per accelerare la somministrazione, ma vengono respinti, ritardi anche da Pfizer. L'Unione Europea, pronta ad approvare AstraZeneca, salgono contagi e decessi. Merkel, lockdown fino al 31 gennaio. Tutti divisi invece sulla scuola. Otto regioni non riaprono lunedì. Poi la politica di spalla. Un'intervista a Massimo D'Alema, venti di crisi. D'Alema dice, è un errore cacciare Conte a centropagina. Una bella, anzi bellissima notizia. Le nozze fra due sopravvissuti agli attentati di Londra e del Bataclan. Un amore più forte del terrorismo, scrive Repubblica. E andiamo avanti adesso e passiamo al fatto quotidiano. Dietro a Renzi e Compani le voci dei padroni, scrive il giornale Filo Governativo, diretto da Marco Travaglio. Spingitori di Italo Vivi, scrive sempre il fatto. 50 interviste ai giornali in un mese. Tutti contro Conte, ogni giorno due o tre uscite di esponenti di Italia Viva, bugie anti-governo e pro-larghe intese in vista del recovery, scrive Marco Travaglio. Passiamo invece a vedere Libero, giornale di opposizione. Gli italiani non sanno più che fare. L'ora della ribellione. Il governo cambia misure contro il virus tutti i giorni. Ormai capire cosa è lecito è impossibile. Siamo nelle mani di una banda di incapaci, scrive il quotidiano di Feltri. Non esiste un piano vaccini. Arcuri scarica tutto sulle regioni. Poi in taglio alto. La politica e la crisi di governo. Scontro col presidente del Consiglio. Sorpresa. Stavolta Renzi ha ragione. Dice sempre Libero. Passiamo al primo dei due quotidiani romani. Il tempo. Renzi vince se butta giù. Conte, scrive il quotidiano della Capitale, che poi aggiunge la svolta che serve. Italia viva molte ragioni sul recovery plan e qualcosa sta andando per il verso giusto. Tolti dai soliti bonus, 15 miliardi messi su sanità e infrastrutture. Non basta questo primo passo. Il governo ha messo capo l'Italia e per cambiare davvero rotta bisogna iniziare dalla testa. Poi si parla di scuola. Furia. Azzolina, il ministro dell'istruzione, che dice niente scuola, allora chiudete tutto. Andiamo avanti con il quotidiano della destra, il secolo d'Italia. Si vergognano di Conte anche i giornalisti di sinistra. Premier solo scrive il secolo gara ad abbandonare la nave che affonda. E andiamo avanti adesso con il manifesto. Scorie maledette, scrive in apertura il quotidiano comunista. Il governo dà il via libera alla mappa delle aree potenzialmente idonee per il deposito nazionale dei rifiuti nucleari. Secondo la SOGIN sono 67 distribuite in 7 regioni. La decisione finale è una lotteria. Nessuno vuole le scorie e la rivolta degli enti locali. In taglio alto invece la politica. La crisi si avvita verso la Conta. In aula, governo, Renzi non arretra. Conte riprende il pallottoliere. E lasciamo il quotidiano comunista e andiamo al quotidiano cattolico. L'avvenire, elezioni in assenza. Questo è il titolo che fa in apertura il quotidiano dei vescovi regioni. In ordine sparso, didattica a distanza fino all'11 o a inizio di febbraio. Accelerano le vaccinazioni. L'antidoto italiano avanza nella sperimentazione. Sabato e domenica in Arancione in tutta Italia. Poi stop agli spostamenti. Ancora 649 decessi. Anche sull'avvenire. La questione delle scorie radiattive. Per le scorie radiattive. 67 siti possibili. Ma è già rivolta, scrive il quotidiano cattolico. Andiamo avanti con la stampa di Torino. Chaos vaccini. Consegna in ritardo. Questo è il titolo di apertura. Pfizer 100.000 dosi. In meno funziona il farmaco italiano. Reitera. Sarà pronto entro l'estate. Domani riaprono elementari e medie braccio di ferro sulle superiori. Rabbia di Azzolina contro le regioni. Lasciamo la stampa e passiamo alla verità. L'euroflop sui vaccini spinge la Merkel in braccio a Putin. Poche dosi. Vecchio continente al palo, scrive il quotidiano di Maurizio Belpietro. La retorica europeista non salva le vite. Così la Germania segue l'esempio di Israele. prima tratta con Pfizer da sola, poi si accorda con la Russia per avviare una produzione comune. Noi invece, scrive la verità, aspettiamo Bruxelles. E vediamo invece con il sole 24 ore le notizie economiche. Recovery, così cambia il piano 4.0, scrive il quotidiano di Confindustria. Queste le novità richieste all'Unione Europea di rivedere gli incentivi più digitali, meno beni tradizionali. Gli aiuti saranno retroattivi, scrive sempre il sole 24 ore, validi per gli investimenti dal 16 novembre 2020. E come di consueto adesso, in chiusura della nostra rassegna stampa, andiamo a vedere le notizie sportive con la Gazzetta dello Sport. Chiaramente tiene banco la partita del giorno. Milan-Juve lotteria. Scudetto, scrive la Gazzetta, San Siro 20 e 45, Befana con Milan-Juve e il rischio Covid. È positivo anche quadrato, l'asli in campo, se un focolaio, scrivono. Non si gioca, posta in palio altissima. Giorgio, re della porta, si trova di fronte il marziano. Ronaldo, Pioli dice, ma che pari? Voglio restare primo. Pirlo torna da tecnico e non può perdere. Bene, con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti, buona giornata. A voi tutti, buona giornata. Grazie. Grazie.